Vieni a me, mia preda! Buongiorno, signor Suclefente! Ah, sì! Buongiorno, classe! Io sono... Sono... Il signor Springman! Buongiorno, signor Springman! Che cosa impareremo oggi, signor Springman? Beh, oggi imparerete della... Geografia! Il Principato di Liechtenstein è situato fra Austria e... Ed ecco perché non dovreste mai bere il latte andato a male dopo Natale. Ok, classe, sono tornata dal bagno. Ora, chi sa dirmi come il nucleo della cellula si... Ah, mio Dio! Jeremy, non si attaccano le gomme sotto i banchi! Fila nell'angolino! Grazie per avermi sostituita! Maestro! Va bene, proviamo questo codice! A, B, B... Un piccolo yodel! Hola! B, B, su! Dai, otto calcio la macchina! Avanti, indietro, 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 sinistra, su, destra, cerchio, destra, indietro, sinistra, 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 clicca 1987 sul lato della macchina e vai! Oh, salve! Il mio nome è Freddy Fazbear! Vittoria! Un altro nemico sconfitto! Che idea sensazionale! Oh, sì, questa è buona! Sans! Sans! Guarda qui! Ce l'ho fatta! Ho acchiappato degli umani! Ehi, lasciaci andare! Sono davvero infelice! Vedi? Umani! Ma, quelli non sono umani! Dovresti lasciarli andare! Noi stiamo solo cercando di essere gentili! Cazzo e mosca! Certo che sono degli umani, Sans! Me lo sento nelle vene! Non penso che siano umani! Lei lo ha! Eh? Cacchio! Ok, vi farò uscire non umani! Eh, colpa mia! Ehi, bro! Qualcuno dovrebbe impedirti di premere quel pulsante! Buonavolta e punti! Oh, attenzione! Tostine letali all'interno! Non inalare la... Oh, questo sì che è un bel colpo! Oh, ho trovato una buona spezia per la mia pizza, dopo tutto! Voi ragazzi avete visto Bonnie oggi? Credevo che dormisse ancora! Cos'è? Ho trovato! Abbiamo cercato dappertutto! Dopo questo non potrò più mostrare la mia faccia sul palco Beh, non puoi sistemarlo? È questo il punto, ho provato e riprovato Ma non riesco a trovare un modo per liberarmene Ecco perché indosso sempre il mio cappello Sarò solo uno strambo per il resto dei miei giorni Un attimo Questo è un cartone, giusto? Non significa che possiamo... Aspetta Foxy, cosa significa che questo è un cartone? Aspetta Foxy, cosa significa che questo è un cartone? Aspetta Foxy, cosa significa che questo è un cartone? Aspetta Foxy, cosa significa che questo è un cartone? Aspetta Foxy, cosa significa che questo è un cartone?